Ti dico che io lo dovevo far tagliare, anzi avevo già la sega, ma lei dice loro tiriamo su, eccola, vedi tutti quei che abbiamo, e poi adesso andiamo avanti il pezzo, è da fare, è da fare. Dillo, benedetto, io ti ringrazio. Dov'è registrato? Trova le parole, aspettiamo che arrivi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.